Buonasera a tutti, io vorrei semplicemente un saluto, un grazie ad Emilio che ha scelto l'alco d'aspire per questa serata, complimenti alla Bratella, anche se non rita ma molto attenta e interessata a queste cose, noi come amministrazione facciamo come possiamo, non possiamo paligare, però devo dire una cosa ad Emilio, non avevo visto la pubblicità per questa cosa, lo bandini, mi spiace, ma devo dire, come mi complimento per l'iniziativa devo dire pure queste cose, grazie per la presenza e buonasera a tutti, che sia una prossima molto più utilità, grazie e buonasera.